Buongiorno ragazzi, siamo a Milano e alle mie spalle c'è il Palazzo del Ghiaccio. Qua è ospitata la fiera del Music Show Milano. C'è la vendita di strumenti vecchi e nuovi e poi c'è anche una sezione del Second End. Andiamo! Il costo del biglietto è di 12 euro e c'è anche un servizio ristoro. È possibile trovare strumenti e attrezzature usate e nuove, costose e professionali. Il costo del biglietto è di 12 euro. Il costo del biglietto è di 12 euro. Oltre alle varie dimostrazioni di articoli nuovi, è possibile incontrare vari musicisti professionisti e vari apprezzati youtuber del settore. Qui si trovano tutti gli strumenti usati portati messi in vendita dai visitatori privati durante la giornata e riportati via alla loro uscita se non venduti. Questa è l'area dedicata alla luteria italiana e europea. Qui si trovano strumenti di alto livello, dalle forme più classiche a quelle più originali. Non viene trascurato nessun dettaglio nella realizzazione di queste vere opere d'arte, confermato anche dal loro suono unico. Sempre in quest'area è possibile prendere contatti con vari costruttori e provare gli strumenti nell'apposita area allestita. che si trovano strumenti di alto livello, una fiera davvero interessante per l'amante dello strumento, per il collezionista oppure proprio per il musicista. spero vi sia piaciuto e noi invece ci vediamo con il prossimo video. Grazie, ciao!